Io credo, sto cercando di chiudere un cerco di personaggi con 56 anni di attività. Ho fatto di tutto, mi mancava il ballerino, mi manca un film che faccio alla fine di aprile perché faccio un gay, faccio un gay che muore e poi muore. E poi spero di fare un killer per chiudere il cerchio. Adesso, Lambo, la cosa importante è che io non faccio il killer di Sara Mardega, ma te la so persa, questo è fondamentale, non la voglio chiedere a un'altra magra, non la voglio stare, quindi non sentire il po' di vita. Sara è forte, straordinariamente brava e mi sta dando una lezione. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.